All'ultimo regionale è stata la prima volta che mi sono sentito di votare per qualcosa, per qualcuno. Diciamo che il momento in Italia è l'unica alternativa che dà un senso di speranza e di libertà. Nel prossimo spettacolo ho deciso di fare politica anch'io, senza candidarmi, senza dare nell'occhio, di nascosto. L'ho fatto per tanti anni nei teatri, ora voglio abbinare i teatri e la rete, cioè internet, per fare politica senza intermediari, senza politici. Quelli non servono più, sono obsoleti, superflui, cadaveri ambulanti. Non rappresentano più nessuno, nemmeno se stessi. Lancia un movimento politico che tanto per cominciare punta a smuovere un milione di persone. A tirare fuori il furore che c'è in loro. Lo chiameremo a furore di popolo. A tirare fuori il furore di popolo. A tirare fuori il furore di popolo. Fare completamente un cambiamento dal punto di vista di eleggere persone nuove, non quei soliti anziani che alla fine siamo sempre lì che balliamo con la nostra nonna. Grazie a tutti.